Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Arriva qua? Eh beh ragazzi Schiet Roma e quindi la fondatrice della scuola di Tip Tap Monias Rhythm Tap Ce l'abbiamo davanti a noi nella notte della capitale Eccola qua ci sta salutando con il microfono di Gianluca Armagno La salutiamo? Eccola qui Ciao Monia, chi è Monia? Sono io, ciao, buonanotte a tutti Oh Monia, insomma tu qua mi fanno mille domande Sì dimmi Ginger Sister, che cos'è questa cosa? Tip Tap Tip Tap, Ginger Sisters Le Ginger Sisters, eccoci siamo tutte qua noi tre ed è un trio di Tip Tap in stile pin-up anni 40-50 Un po' tipo burlesque? Facciamo delle collaborazioni con delle burlesque però non è propriamente burlesque Però ti posso dire che stiamo preparando degli show dove simpaticamente le prendiamo un po' in giro Allora io un sabato sera vi voglio qui al Dubai perché vi voglio presentare anche alla proprietà che ci fa stare qua, Capito Monia Va bene In maniera che poi ci sarà un'anteprima dello spettacolo che poi vi faremo fare noi di Radio Radio By Night Roma qui al Dubai Con molto piacere Mi fai, cioè anche se gli ascoltatori non vedono, mi scendi un attimo dallo sgabello? Vittoria sgabello questa sera No scherzo Mi fai un pezzo? Ah così, breve Basta, basta, ho capito tutto Basta Monia, allora, oh Qui praticamente c'è la scuola di Tip Tap Per comunque far parte del vostro gruppo, dei contatti che possiamo dare, vai Moniatapchiocciolalibero.it Oppure abbiamo anche un sito www.moniatapdance.com Oh, uno pensa che il Tip Tap lo debba fare solo l'uomo, no? Perché con qua la scarpa lì Invece no, è la cavolata questa cosa Sì, sì Vero? No, no, per tutti Ma i grandi attori, quelli di una volta, tutti saranno Sì, sì, erano dei tempi I vecchi tempi Gli Alberto Sordi, Enrico Montesano Sì, ma Ginchelli Eh, vabbè, grazie Fred Astero, wow Che poi Sordi prendeva in gira un americano a Roma, no? Sì I grandi Ginchelli Bene, oh, queste sono anche cenni culturali di arte molto importante Diamo anche la parola alla bionda del gruppo Ciao Salve È stata bene? Sì, ho bene, tutto bene Guarda, sono contenta quando vengono gruppi di donne contente Tra l'altro so che vi conoscete con altri artisti C'è l'unico uomo del gruppo, felicissimo, infatti Ci sta riprendendo Lui balla tip-tap? No C'è prova? Trovo Va bene, allora Ti cresci un pochino, dai Senti, ma il tip-tap, con quale genere musicale si deve ballare? Diciamo che è una percussione, una danza podo-percussione E si potrebbe ballare con qualsiasi musica Però noi siamo infrontate più sullo swing Quindi è adatto a tutti Allora, grazie a Monia's Rhythm Tap La fondatrice della scuola Schiette Monia Schiette Roma che è il cognome? Monia Schiette Roma Cioè, questo è il cognome? Questo è il cognome No, però è una Perché non ti metti qua nell'insieme? Schiette Roma Schiette Roma è il cognome Ditemene queste cose, no? Posso dare due appuntamenti delle Ginge? Assolutamente Un paio di appuntamenti Il primo dicembre siamo in Rai 3 Rai 3 per Cosa dell'altro Geo Quindi vi aspettiamo con molto piacere a guardarci E poi il 2 dicembre saremo al Palacavicchi In un evento importantissimo di swing Lo Shout Sister Shout Organizzato da Silvia Palazzolo e Bruno Rossi Allora, intanto io vi voglio rinvitare Decidete voi un sabato qua Anche questo che viene Perché voglio farvi conoscere a tutto il Dubai Nel clima weekend Che è sempre con molto più buon umore Di quello infrasettimanale Grazie Monia Schiette Roma Grazie a te Difficile questo cognome Grazie a Scuola Tip Tap Monia's Rhythm Tap Adesso Radio Radio By Night Roma 104.5